Ma voi le conoscete le popizze? Seguitemi e vi mostro come realizzarle. Guardate un po'! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Ed ecco qui le nostre pettole salate appena fatte. Adesso ne apro una e vi faccio vedere l'interno. Guardate. Grazie per avermi seguito. A presto. Alla prossima videoricetta. Ciao. Ciao.